In cima alla lista degli impegni della nuova amministrazione comunale di Venafro c'è l'emergenza scuola. Il terremoto di San Giuliano prima e quello dell'Aquila poi hanno determinato la chiusura di alcuni edifici e la necessità di ricorrere ai prefabbricati. Finora di parole ne sono state spese tante, ma di soluzioni ne sono state trovate poche. L'amministrazione Sorbo intende ripartire dalla storica scuola di Via Maiella. È disponibile un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro. Dobbiamo consentire ai ragazzi di avere degli edifici in cui poter esercitare il diritto all'istruzione in condizioni normali e di sicurezza. L'intervento principale, quello su cui ci stiamo concentrando maggiormente, riguarda l'edificio di Via Maiella, lo storico edificio di Leopoldo Pilla, chiuso nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila. Lì abbiamo un finanziamento di 2 milioni e mezzo che abbiamo con un'azione iniziata quando eravamo seduti sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, fatto in modo che venisse rimodulato e destinato a Via Maiella. Stiamo ragionando sulla tempistica e sulle soluzioni tecniche ed economiche più sostenibili, ma una cosa è certa, l'intervento verrà effettuato su Via Maiella. A breve saranno invece recuperate alcune aule nell'edificio scolastico di Via Colonia Giulia. Ciò permetterà non solo di togliere gli alunni da una struttura privata, ma anche di risparmiare sulle spese di fitto. Quella è una scuola che è stata inaugurata un po' in fretta nel 2011. Sicuramente è una scuola che richiede molti, molti, molti interventi per restituirla alla normalità della vita scolastica, ma soprattutto lì noi effettueremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, degli interventi che consentano di recuperare le aule necessarie per spostare gli alunni che adesso sono ospitati in un locale privato, a suo tempo locato dal comune, in quegli edifici scolastici per dare anche una nuova unità di comunità scolastica. Interventi di manutenzione sono previsti anche all'Istituto Monsignor Testa in Via Machiavelli, mentre con un ulteriore finanziamento di 500.000 euro si interverrà anche sull'edificio scolastico della frazione Cepagna.